Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati e benvenuti a una nuova puntata di Turbo Daily. Oggi sarà una giornata importante sui mercati finanziari e soprattutto nel pomeriggio avremo una forte volatilità, questa è dovuta al dato più importante dell'economia americana che è quello legato al mondo del lavoro, abbiamo sia i non-farm payrolls che i dati circa la disoccupazione che come sapete escono tutti i mesi il primo venerdì del mese, di conseguenza questi dati potranno muovere, creare tanta volatilità sui mercati in particolare quello dell'equity, degli indici e anche su quello delle valute. Però dobbiamo considerare che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane i mercati sono stati piuttosto forti anche se le aspettative su questi dati sono veramente pesanti, si parla di 20 milioni di disoccupati negli Stati Uniti quindi insomma in uno scenario come questo vedere le borse che comunque quantomeno tengono ci fa un po' paura, l'oro ha iniziato ad apprezzarsi così come l'euro nei confronti del dollaro, staremo a vedere cosa succederà oggi pomeriggio, vi ricordo i dati escono alle ore 14.30 italiane, ma andiamo subito sul grafico a fare una valutazione, questo è l'SP500 ovviamente parliamo dell'indice principe degli Stati Uniti, questa è la conformazione che stiamo vedendo di cui abbiamo parlato tra l'altro due giorni fa con il nostro ordine pendente che non è entrato e quindi avremo la possibilità di entrare nuovamente su dei livelli più alti quindi potendo mettere poi effettivamente lo stop loss sopra i massimi di periodo è un target piuttosto ampio, ma voglio farvi vedere una cosa scendiamo di time frame e scendendo appunto potrete notare l'ordine non è ancora entrato, io non l'ho ancora inserito quindi di conseguenza questi livelli a 2925 sono stati toccati ma il mio ordine non è entrato perché appunto io ancora non l'ho messo, ecco la cosa interessante io ho deciso di stare a una decina di punti rispetto a quello che sta battendo il mercato perché generalmente in prossimità di questi dati vediamo delle escursioni di prezzo piuttosto importanti, queste escursioni potrebbero far sì che i nostri ordini vengano colpiti ed eseguiti, ok? Quindi è per questo che ho cercato di stare distante, ecco se fate trading da un po' di tempo se avete dimestichezza con questo genere di cose magari andate a rimodulare il vostro ordine in prossimità delle due e un quarto quindi appena prima dei dati per vedere più o meno dove saremo posizionati, io questo purtroppo per esigenze di trasmissione non lo posso fare però diciamo che è corretto magari vedere lo stato dell'arte una decina di minuti prima del dato diciamo del dato macroeconomico. Andiamo sul sito investimenti.bempeparibas e individuiamo il certificato legato all'SP500 che vi ho mostrato, è molto semplice si clicca su sottostante si sceglie quello che ci interessa in particolare in questo momento io voglio un certificato ribassista. L'altra volta avevo scelto questo certificato NL0014269045 e quindi continuo su questo prodotto perché mi sembra un prodotto equilibrato in buona sostanza, è un prodotto che ha una leva giusta di 10 volte, una distanza dai livelli del knock out del 10% quindi non dovrebbe essere colpita in giornata salvo cose straordinarie e un prezzo appunto quindi adeguato per questo tipo di operatività. Ecco importante se l'SP500 dovesse raggiungere i 3200 punti questo certificato annulla il suo valore totalmente quindi va a valere 0 quindi da 2,73 euro che quota in questo momento andrebbe a 0. Voliamo subito in piattaforma io inserisco un ordine a 2,55 euro per 600 pezzi quindi un ordine di entità modesta, lo faccio perché già ho un'esposizione sul DAX quindi non voglio andare a prendere una mega esposizione short di conseguenza faccio un ordine di entità modesta, lo andiamo a inserire subito come ordine pendente, lo vedete qui. Giusto come considerazione nel caso euro dollaro o il gold dovessero salire in maniera forte durante l'arco della giornata potrei valutare di alleggerire un po' le posizioni visto che ho già oltre 11.000 euro di certificati in portafoglio. Bene andiamo quindi a ricapitolare il trade proposto oggi è un trade ribassista su SP500 entreremo short da 2.925 con stop loss 3.010 punti target 2.700 punti. Ovviamente non mi aspetto di entrare prima delle due e mezza ma appunto attendiamo e vediamo che cosa succederà nell'arco della giornata. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, io spero di avervi dato degli spunti interessanti e ci aggiorniamo come sempre la settimana prossima alle 9.45.